Minacciavano, rapinavano e aggredivano i titolari di un esercizio commerciale a villaggio Aldisio. Sono finiti in manette due fratelli messinesi, Domenico Milanese, 36 anni, Antonino, 38 anni, entrambi con precedenti penali. Arrestati questa mattina dagli agenti delle volanti della polizia, devono rispondere adesso di rapina, estorsione, lesioni aggravate e danneggiamento. Da mesi i titolari di un chiosco nel villaggio della zona sud di Messina subivano aggressioni e atti intimidatori. Tutto iniziato ad aprile, quando uno dei due fratelli si è presentato nel locale ordinando una vaschetta di gelato, ma al momento di pagare ha aggredito il gestore con calci e pugni ed è fuggito. Pochi giorni dopo il malvivente si è ripresentato aggredendo un altro dei titolari, strappandogli il borsello e colpendolo al capo con una pietra. La vittima era dovuta ricorrere alle cure mediche dell'ospedale. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno il chiosco è stato rapinato da due uomini. Nei giorni successivi i proprietari del chiosco sono stati contattati dai milanese che chiedevano 3.000 euro o di collaborare con loro, denunziando all'assicurazione un falso incidente in loro favore. Un nuovo episodio anche ad ottobre, quando il gestore è stato aggredito dai due fratelli milanese con minacce di morte. I malviventi hanno tentato di buttare giù la porta dell'esercizio commerciale dentro il quale la vittima si era rifugiata, colpendola a spallate più volte, ma avvertiti da un loro complice dell'arrivo di una pattuglia sono riusciti a fuggire. I due arrestati questa mattina sono stati condotti presso il carcere di Gazzi.